SMXL vi dà appuntamento con il meglio del digital marketing nazionale ed internazionale. Ciao, mi chiamo Santi Achille, sono il chairman di SMXL, evento di digital marketing che si terrà a Milano il 13, 14 e 15 novembre di quest'anno al Mico, Milano Congressi. Ho il piacere e l'onore di presentare i relatori di grandissimo spessore, come Rand Fishkin oppure Brian Heiseberg, che oltre al keynote presenterà una masterclass sulla ottimizzazione delle landing pages. Ci saranno sessioni di vario tipo, una sessione tutta dedicata all'ottimizzazione avanzata SEO utilizzando dati strutturati, ce ne sarà un'altra in anteprima per la prima volta in Italia sulla dark side of digital marketing, tecniche di Black Hat SEO. Ci saranno relatori di analitiche, di e-commerce, ci saranno delle star di YouTube, di Snapchat. Tutto il meglio del digital marketing per voi ad SMXL di Milano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.